Allora la crisi in Ucraina, sono atterrate a Kiev le armi inviate dagli Stati Uniti, anche Londra si schiera e domani il vertice dell'Unione Europea da New York. Claudio Pagliara. In una base californiana, armi statunitensi vengono caricate su aerei da trasporto. Destinazione ucraina andranno ad aggiungersi a quelle già consegnate due giorni fa. Al punto aereo, teso a rafforzare le capacità difensive dell'esercito ucraino, partecipano anche Gran Bretagna e paesi baltici. Biden ha trascorso il weekend a Camp David, dove ha tenuto un vertice con i suoi massimi esperti di sicurezza. Non c'è solo il timore di un imminente attacco russo. Secondo il ministro degli esteri della Gran Bretagna, Mosca starebbe cercando di destabilizzare il governo ucraino per sostituirlo con un amico. La forza russa va in Ucraina. Allarme confermato da Anthony Blinken. Questo è il copione che ispira le mosse del Cremlino, sostiene. Il segretario di Stato ribadisce che ogni violazione del confine ucraino da parte dell'esercito russo determinerebbe una repentina e dura risposta americana. All'Ucraina, che chiede sanzioni immediate contro Mosca, risponde che anticiparla annulerebbe il loro potere di deterrenza. Blinken sostiene che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Domani sarà collegato in videoconferenza con i ministri degli esteri dell'Unione Europea per coordinare le prossime mosse. E' un appello per la pace in Ucraina, è venuto dal Papa. E' un appello per la pace in Ucraina.